Con l'ultimo test di Montenegro di Bisaccia di ieri si è chiusa la prima fase della preparazione per il Campobasso. I Rossoblu nella circostanza si sono imposti per 7-0 sulla formazione di Uniones del Pescara, con poker per Parigi e realizzazioni di giunta di Francesco ed Emma Usso. Dopo un weekend di sosta coincidente con il Ferragosto, da lunedì la scuola tornerà all'opera per preparare l'appuntamento di Coppa Italia del 21. Quando a sera, calcio inizia alle ore 21, il Rossoblu di Cudini saranno ospiti del Grosseto. Il confronto del trofeo tricolore, tra l'altro, rappresenterà un utile antipasto in vista dell'esordio in campionato della truppa di Mirko Cudini, che nella circostanza avrà un altro 11 di lupi, nello specifico Irpini, da affrontare, ossia l'Avellino, in una grande classica in programma nel fine settimana del 28 e 29 agosto, ancora non sono stati ufficializzati gli orari del planning ufficiale, al Partegno in Campania. Nel frattempo però in città sarà l'entusiasmo in vista dell'avvio della stagione, con i tifosi che non vedono l'ora di vedere all'opera i propri beniamini.